Buon pomeriggio dall'Anco Marzio di Alselito. Quest'oggi vi facciamo vedere i piccoli dell'Ostiamale, uno dei gruppi della Scuola Calcio Bianco Viola e nello specifico i 2004 di Mr. Gifuni, qui inquadrato, proprio mentre sta spiegando ai suoi ragazzi l'esercizio da fare in questa sessione di allenamento. Seguiamo in silenzio l'allenamento dei 2004 dell'Ostiamale con il tecnico che dopo aver illustrato l'esercizio lascia spazio ai propri ragazzi che adesso lo proveranno. Vediamo l'esercizio. Marzio, guarda gli spazio, guarda gli spazi, guarda gli spazi, guarda gli spazi, guarda gli spazi, bravo, eccolo, va bene, ok. Prima però Dani, ok, perfetto, hai capito ho fatto? Adesso noi facciamo un altro, poi parte lui, poi diamo in cambio con il piede e poi diamo in cambio con Daniele, ok? Pronti? No rubà, vai dietro. Pronti? Ok? Grazie.